L'incontro con Lourdes è di quelli che cambia una vita, lo dice chi c'è stato, lo testimoniano i volontari dell'Unitalsi. A Barletta lo afferma padre Andrea Brustolon, autore del libro dedicato alla figura di quello che lui chiama il dottore della grotta, fondatore del Bureau Medical, presieduto oggi da un medico italiano. Una singola storia di dare risposta a tre grossi gruppi di domande. Il primo, ma questa persona era veramente malata? Se lo era per noi a Lourdes deve trattarsi di una malattia nota, descritta nella letteratura scientifica, e di una malattia a proniosi grave. Ma se questa persona era dunque stata veramente malata, è questa persona veramente guarita? Per noi a Lourdes la guarigione deve essere avvenuta in maniera inattesa, in maniera istantanea, in maniera completa e in maniera durevole per sempre. Se dunque questa persona era stata veramente malata ed è veramente guarita in maniera completa e durevole, terza domanda è molto fondamentale. Questa guarigione ha una qualche spiegazione. Ad oggi questa procedura non prende mai meno di 20-25 anni ed ha portato fin dai tempi della fondazione del Bureau, dunque fin dal mandato del fondatore, il dottor Giorgio Fernandino de San Maclou, a stabilire che poco più di 7.000 guarigioni sono state ritenute in sede collegiale essere delle guarigioni inspiegabili o come oggi preferiamo dire inspiegate. Tra i segni di Lourdes, certamente trovare un luogo dove al centro è il sofferente e il malato, dove veramente può trovare un ambiente anche di accoglienza, di serenità, trovare anche uno stile di famiglia, di amicizia, tante associazioni e movimenti lavorano su questo.